Il grande flautista del mondo, eccolo lì, c'è una stata, un mezzo busto e il suo onore, ma lo sapete chi è? Ne dovete essere orgogliosi perché è conosciuto in tutto il mondo e non c'è nessuno adesso, ancora oggi, che abbia potuto eguagliarlo. È unico, Severino Gazzelloni, e lo sapete meglio di me. Quindi io vi voglio sentire, non per me, ma per Severino Gazzelloni le volete battere le mani. Se lo merita tutto, soprattutto la sua storia, una persona meravigliosa, semplice, che suonava nella banda di Roccasecca, appassionato di musica e ha portato la sua musica in tutto il mondo. Beh, e di questo voi di Roccasecca ne dovete essere, ripeto, più che orgogliosi.